Allora... Tutti diamo fuori a Cristiano da acerlo. Taran... Taran... Top! Cresci... Pfff, mi ferma qui... Lo scoprivo da me. Questo è tranquillo! Intanto mica stai a lavorare coi morti! Che ne so, che Cristiano devo tirare fuori? Stai perdendo... Ah, guarda... E si, asia... ... 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 non è aperta fanno gli scherzetti tarararar mi sono caduto sotto la macchina ok e cominciamo te imbatto fatti i tuoi rumori ma vedi tu fai il pago perchè tanto se te non lo vedi lui in te vede oh ciao caro tutto bene? aspetta che adesso vengo proprio a correrti in faccia devi saltare a guardare tutto il tempo ho detto così potete, non ti senti solo bubu 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 7 di madonna non ci sta più no vedi mai giocare a bubu 7 di chi i fantasmi perchè perdi che roba oh 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 heroin kit my kit ma come? il kit eroina ha quel coso sopra? quel unicornino scusa? scusa? si sta lagando casa? sono cazzi delle cose del condominio oh oh don't Grazie a tutti.